Il ventitresimo anno che facciamo spettacoli di danza e quant'altro, anche altre cose, il Centro Fitness Energy Club, attraverso il Centro Dance di Danza, praticamente l'Energy Dance, effettuiamo questi saggi di fino anno che man mano si sono sempre più elaborati, sempre più ricercati, infatti abbiamo il piacere di avere con noi anche la compagnia teatrale Joey Roger che lavora appunto per quanto riguarda spettacoli per bambini e altre cose e quindi facciamo questa collaborazione di teatro danza, quest'anno la rappresenteremo appunto lunedì 22 al Politeama alle ore 9 lunedì e poi faremo una replica anche mercoledì 24 in piazza a Calcinelli nella nostra sede dove è il Centro Fitness. Di che cosa tratta? Allora è la valigia dei non desideri, è una storia tratta, inventata appunto da noi, da questa compagnia Joey Roger insieme ai nostri insegnanti, la Giada Broccoletti e Emanuele Galgani che collaborano da noi da tanti anni e hanno messo insieme questa storia, molto simpatica. Grazie. Grazie. Grazie.